Sono il commissario capo della polizia di stato Raimondo Martorano, sono arrivato a Genova poco più di un mese fa, abbiamo effettuato una ricondizione generale degli uffici della quest'ora e adesso sono stato assegnato in qualità di dirigente all'UPGSP, l'ufficio di prevenzione generale del soccorso pubblico che si occupa di tutte le problematiche legate al controllo del territorio e al pronto intervento delle volanti. Non solo, abbiamo anche una squadra nautica che si occupa dei servizi analoghi ovviamente su un'altra parte del territorio della città di Imperia e sono orgoglioso e contento di questo incarico che mi è stato conferito dal signor Costone.